Per gli insegnanti precari che aspirano all'emissione in ruolo queste sono ore importanti, in cui prendere decisioni che potrebbero determinare non solo il proprio futuro professionale, ma anche personale. Si è aperta infatti la finestra per l'emissione in ruolo di circa 100.000 insegnanti, prevista dalla legge 107 del luglio 2015. Quella definita dal governo, in particolare dal premier Matteo Renzi, la buona scuola. Una riforma che per i sindacati invece è pessima, in cui finisce per non salvarsi neanche la parte dell'emissione in ruolo degli insegnanti. Una procedura che si sta rivelando complicata e farraginosa, con una serie di incognite che i sindacati avevano preventivato. Anche per questo le organizzazioni sindacali stanno promuovendo degli incontri con gli insegnanti al fine di chiarire i punti più oscuri della norma, aiutare chi deve fare una scelta che potrebbe essere esistenziale a farlo con cognizione di causa. Stamattina è stata la CISL a promuovere un incontro a nuoro con gli insegnanti. L'appuntamento era fissato nell'aula magna dell'Istituto di istruzione superiore Ciusa. Ad illustrare le procedure per l'emissione in ruolo, ma anche a chiarire i cavigli e differenti interpretazioni della norma, Maria Luisa Riu, segretario provinciale della CISL Scuola. In questa fase il compito del sindacato è quello di aiutare gli insegnanti a fare una scelta ponderata, a dare tutti gli strumenti e le informazioni affinché prendano una decisione con cognizione di causa. Anche perché la rinuncia alla presentazione della domanda di missione in ruolo comporta la cancellazione dalle graduatorie. In questo caso l'unica modalità per continuare ad insegnare rimane quella delle graduatorie d'Istituto per le supplenze, che per questioni fisiologiche non potranno mai essere chiuse. Dalla platea sono arrivate domande e richieste di chiarimenti, specie per chi entro il 14 agosto è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle di merito per i concorsi del 2012 deve decidere se presentare o meno la domanda.